Approvato durante l'ultimo Consiglio Comunale dell'Amministrazione del Sindaco Franco Alfieri il nuovo regolamento per la concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria. Per poter usufruire della rateizzazione il contribuente dovrà presentare apposita domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio Pestum oppure tramite raccomandata opposta certificata. La richiesta sarà evasa dall'Ufficio Competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. I tributi per cui si potrà chiedere il beneficio sono Le rate possono variare da un minimo di 4 ad un massimo di 72. Si potrà arrivare a 100 previo stipula di un'apposita polisafidevissoria bancaria o assicurativa. La soglia minima di pagamento è di 50 euro.